50 e più Confcommercio di Pesaro e Urbino, in collaborazione con Terziario Donna e Benessere in Andropausa, vi invitano al convegno Più Vita Agli Anni, dedicato al benessere dell'uomo in Andropausa, che si terrà domenica 10 ottobre a partire dalle ore 10, nell'elegante e storica sede di Villa Berloni a Candelara. Il convegno è aperto a tutti, in particolare a medici e operatori che a vario titolo possono essere interessati ad approfondire queste tematiche. quali sono i sintomi dell'andropausa e a che età si avvertono, come affrontarne le conseguenze sulla vita di coppia, quali comportamenti possono accelerare o influenzare negativamente questo processo. Ti aspettiamo domenica 10 ottobre dalle ore 10 a Villa Berloni.